Meti, divina, io sono Zeus, il figlio di Crono, mio padre vuole annientarmi, ribellarmi, ma li hai visti i titani che lo difendono? Tutte con le braccia, prendi, scava, strappa, acciaio, acciaio, ancora acciaio, come faccio? I miei fratelli? Vivi? Nel suo ventre? Non è possibile, ma allora io come mia madre? E' vero, ho una madre, io non l'ho mai vista, come la riconoscerò? E lei mi riconoscerà? Mi ha già abbandonato una volta, Meti, lei cosa farà per me? Mia madre, cosa farà per me? E lei mi riconoscerà, perché non sappiamo a chi riconoscerà, consulati, consulati, embattati, ministeri, iglesi, tutte le parti ci hanno cerrato, tutte le parti ci hanno cerrato le puoi, per questo le rogiamo a voi, le rogiamo a voi, sono nostra ultima esperanza, per favore, aiutenni, aiutenni.